Ciao a tutti, allora in questo video voglio parlarvi un po' della mia esperienza con il terzo parto. Allora, partiamo subito dal presupposto che se vi dicono se siete incinta del secondo, terzo, quarto, quello che volete e vi dicono eh ma tanto ora è esperienza, già l'ha fatto uno, oppure eh ma guarda che dal secondo in poi vengono tutti veloci eccetera eccetera beh non gli date retta perché è una gran cabip, nel senso che ognuno è diverso e non è detto che se state aspettando il secondo, terzo, quarto eccetera figlio nascerà prima degli altri perché a me è successo esattamente l'opposto. Allora, io ho avuto due esperienze di parti differenti per Aurora Alessandro perché Aurora essendo la prima ovviamente ci ha messo più tempo quindi mi si sono rotte le acque e poi lei è nata molte ore dopo quindi ho avuto tutto il tempo per arrivare in ospedale, per farmi tutto il travaglio lunghissimo eccetera Alessandro invece è stato un po' più veloce però diciamo che il travaglio è stato più veloce ecco è il travaglio che è stato più sbrigativo rispetto a quello di Aurora Il terzo, anche la ginecologa mi diceva guarda che secondo me nascerà prima quindi tu quando cominci a sentire i primi dolori vai Io questi dolori praticamente li sentivo ma non li sentivo ravvicinati come dovevano essere quindi aspettavo, aspettavo, aspettavo Io avevo il termine il 4 di dicembre, beh ragazzi sono arrivata praticamente a essere ricoverata a 41 settimane e 3 giorni ovvero una settimana e 3 giorni dopo Questo perché? Perché praticamente il signorino non voleva uscire perché avevo sì delle contrazioni ma non erano contrazioni regolari Erano delle contrazioni a volte anche forti devo dire la verità però non regolari Quindi non mi sono azzardata ad andare in ospedale, sono andata in ospedale solamente una volta E devo dire che secondo me Stofio già sapeva che stavamo andando in ospedale o comunque anche quando abbiamo fatto i monitoraggi secondo me sapeva dov'era Perché io ho fatto 3 monitoraggi e in tutti e 3 monitoraggi il figlio dormiva Quindi praticamente ha voglia a darmelo zucchero, a dimmeva a mangiare, niente, il figlio dormiva Quindi praticamente i miei monitoraggi sono stati inutili tra virgolette Sono andata una volta, mi sono azzardata una sera ad andare in ospedale ma perché Samuele insisteva che voleva portarmici Perché diceva Emma ce l'hai da troppo tempo, Emma anche se non sono tanto ravvicinate di 3-4 minuti Comunque sono ravvicinate di 7-8 minuti quindi secondo me è bene andare, male non fa eccetera Siamo andati, ho avuto le contrazioni praticamente di tutto il tragitto fino all'ospedale Quando sono entrata in ospedale le contrazioni sono finite, secondo me il figlio sapeva che eravamo lì Comunque faccio questa cosa, vado in ospedale ma anche lì mi fanno il monitoraggio, il figlio dormiva Mi hanno tenuto lì per un po' di ore e poi la mattina mi hanno mandato a casa perché logicamente non c'era niente Non c'era neanche una dilatazione che prevedesse che il parto poteva iniziare Insomma non c'era niente quindi mi hanno rimandato a casa Io da lì è passata un'altra settimana ragazzi E se è stata una settimana praticamente dove non ho più sentito niente Infatti sono andata a fare l'ultimo monitoraggio mi hanno detto Senti visto che comunque siamo belli avanti Ti ricoveriamo e ti facciamo l'induzione Io ringraziavo il cielo perché dicevo porca miseria meno male perché non gliela faccio più Cioè sono arrivata a qua, voi immaginatevi già il nono mese è una cosa Cioè che sembra eterna non finire mai Per di più io sono andata pure ortre e c'avevo sta pancia pesante Con tutti i dolori che poi mi sono portata dietro per tutta sta gravidanza Perché rispetto a quell'altre due dove non avevo assolutamente niente Ad esempio con Alessandro addirittura io sono andata a ballare salsa fino al settimo mese ragazzi Invece qui questa è stata una gravidanza che se voi prendete su google e scrivete sintomi di tutta la gravidanza Primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre ragazzi io ce l'ho avuta tutti Tutti Vuoi perché un po' comunque sei più grande logicamente Io ho fatto i miei primi figli che non avevo neanche 30 anni Adesso ho quasi 37 fra una settimana Anzi no pure nemmeno fra 4 giorni Ho 37 anni quindi insomma io l'ho sentito molto la differenza a livello di età Comunque c'è anche chi è fortunata e per carità di Dio alzo le mani C'è anche chi è fortunato più di me e non c'ha questa differenza enorme Anzi ma sto registrando sì Non c'ha questa differenza enorme per cui a 40 anni fa una gravidanza fantastica senza nessun problema eccetera Io dopo questa ho detto basta perché non c'è il mio corpo mi sono resa conto che il mio corpo non Non reggerebbe un'altra gravidanza anche se a me piacerebbe tantissimo Avere altri figli Però Non ce la fa il mio corpo cioè se avessi avuto una gravidanza Senza nessun tipo di problema probabilmente l'avrei fatto un altro Ma Adesso basta Cioè metto proprio chiuso e stop Chi è? Ciao Ciao Sto facendo questo conto, non dorme Umana ha preso? Non è quello che c'è Umana uno? Umana uno Basta ne... Basta ne l'accetta? Non si Massimo No, basta ne l'accetta? Perché 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 La boda Perché Non può darsi pure che non gli piaccia Non gli andiamo a te mangi a toccar No, che tenta di Non sono gli andiamo mai fastidiosso Qui dell'attamil Va bene c'è la mia Va bene Va bene, ok Allora Come mano lei Come mano lei Allora Come mano di support Allora Ricominciamo È arrivato Samuel E quindi mi sono un attimo persa Nel Nel discorso Vabbè Allora Quindi Tornando al discorso Prima che Samuele mi fermasse E quindi niente Quindi Questo è il succo Che succede? Mi ricoverano Mi ricoverano il lunedì Mi ricoverano il lunedì E mi fanno andare là le sette Però per via di Situazioni varie D'emergenza Insomma Che ci avevano Non mi fanno niente Il lunedì Io sto praticamente Una giornata dentro l'ospedale Così senza far niente Sopra a letto Guarda Netflix Aspettavo 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 che il medico Mi dicesse qualcosa Arriva il medico Il pomeriggio E io avevo capito Che non potevamo Fa più niente Mi dice Guarda Adesso Non si può fare niente Io ti posso fare una visita Facciamo questa benedetta visita Vediamo in che situazione siamo E poi Decidiamo Pronto Mi dice Praticamente Ti faccio la visita Vediamo in che situazione siamo E decidiamo Che tipo di induzione fare Vado a fare questa visita E praticamente Rispetto ai 3-4 giorni prima Che ero andata in ospedale Dove praticamente Non c'era Non era partito nulla Il medico Mi dice Che la situazione È un po' cambiata Che c'è Un minimo Minimo accenno Di apertura al parto Di inizio del parto Quindi Mi dice Guarda Io ti programmo L'induzione Per domani mattina alle 6 Calcolate che erano le 9 Ti calcolo l'induzione Ti metto l'induzione Domani mattina alle 6 Però Incrocia le dita Perché potrebbe pure essere Che stanotte succede qualcosa Io però Non c'avevo nessun tipo Di dolore particolare Eccetera Però mi aveva detto Che la situazione Era un po' cambiata Dico va bene Ok Io vado in camera Chiamo Samuele Parliamo un po' Al telefono E poi attacco Mi rimetto A guardare Netflix Quando sono Le 10 Più o meno 10 e mezza Comincio a sentire Dei dolori Assurdi Assurdi Cioè Un po' Come quando C'ha vedere Il ciclo Ma di quello Proprio Cioè potente Che non potete Neanche muovervi Dal letto Che dovete Stare con L'antidolorifico E con La borsella Acqua calda Ecco Io mi sa Che è dai tempi De quando Mi è venuto Il ciclo La prima volta Che non sentivo Un dolore Del genere E Cioè Vedo Che È un continuo Cioè Mi si ferma Mi dura Un po' Mi contorco Mi contorcio Mi contorco Vabbè Dal dolore Dopodiché Mi fermo E dopo Tipo 5 10 secondi Mi ritorna A sto dolore Assurdo Aspetto Un po' Perché dico Vabbè Ma magari So come Quelle che Avevo a casa L'altro giorno E continuano Sti dolori assurdi Sti dolori assurdi A un certo punto Dico No Qui c'è qualcosa Che non va Chiamo Le infermiere Insomma Chi c'è di turno Mi arriva L'ossetrica Gli spiego La situazione Mi dice Facciamo subito Un tracciato Che è l'unica cosa Che possono farti In quel momento Facciamo il tracciato Però mi dice Guarda Visto che la situazione È un po' Cambiata Voglio vedere Ti faccio anche Una visita Nel mentre Che c'hai Una contrazione In maniera tale Che vediamo In che situazione Siamo Ok Io dico Eccalla Insomma Mi attaccano A sto tracciato Faccio sto tracciato Alla prima contrazione Ragazzi Un dolore Assurdo E l'ossetrica Mi dice Guarda 6 a 2-3 cm Io così Ok 2-3 cm Ancora ci vuole Prima Arriva A 7-8 Insomma Allora Mi lasciano Mi lasciano Mi lasciano Passo tracciato Ragazzi Passerà Quanto Un quarto d'ora Perché il tracciato Comunque dura 20 minuti Passa un quarto d'ora Ritornano Le contrazioni Erano aumentate Di un livello Esponenziale Assurdo Ma non di quantità Di qualità Cioè Erano fortissime Cosa che io Veramente Non sapevo più Come mettermi Mi attaccavo A letto Cioè Con rischio Pure di cascare Perché mi contorcevo Andavo De qua De là Sembravo Una matta Sembravo Tipo L'esorcista Tipo Una bambina L'esorcista Guarda Ste contrazioni Mi rifa La visita Nel mentre Che ho Una contrazione Mi dice Guarda Sei già 7-8 cm Ti portiamo In sala Travaglio Chiama Tu marito Io così Eh Cioè Dopo un quarto d'ora 20 minuti Già Già sto 8 cm Pensando Al parto De Alessandro Chiamo subito Samuele Dico Guarda Calcolate Che saranno State Le Undici Più o meno Le undici Undici Un quarto Forse Non di più Chiamo Samuele Dico Vieni Immediatamente Perché Qui Nasce Mi portano In sala Travaglio Io Calcolate Che ho Fatto Tre Forse Quattro Contrazioni In piedi Perché Non riuscivo A rimettermi Nel lettino Ma manco Morta Nel momento In cui Ho cominciato A sentire Che dovevo Spingere Giustamente Lo statrico Mi ha detto Santi Te devi mettere Sdraiata Perché Perché se no Non potremmo Non potremmo Far niente Diventa un po' Complicato E mi sono Sdraiata Ma sdraiata Non sapevo come Mettermi Io mi contorcevo Come una matta Insomma Mi hanno fatto Mettere in una Posizione Stranissima Che non sto Qui neanche A dirvi E nel giro Di dieci minuti Massimo Un quarto D'ora Con tre Spinte Che poi In realtà Una Perché io Praticamente L'ultima Ho spinto E è uscito Proprio Il fio Che sembrava A razzo Fun così E è uscito Proprio tutto E sto fio È nato È nato A mezzanotte E 04 Cioè Proprio Un orologio Sbizzero È nato A mezzanotte 04 E Samuele Non ha fatto Assolutamente In tempo A vederlo Perché è stata Una cosa Troppo veloce Troppo La sensazione Appena Partorito È quella Che vi dicono Ovvero Che non senti Più niente Ed effettivamente È vero Perché io Praticamente Dalla vita in giù Ero morta Non sentivo Più niente E addirittura Talmente Tanto Lo sforzo Che mi stavo A addormentare Praticamente Perché non ne potevo più E E quindi Praticamente Questo bambino È nato Nel giro Di tre ore Mi sono Praticamente Levata Tutto Il tempo Del travaglio Praticamente Che cosa Ho fatto Io Io Non ho fatto Il travaglio Classico Nel senso Che partono Le contrazioni Piccole Poi Piano Piano Aumentano Eccetera No Io Ho fatto Subito Quelle Più forti Quelle Che proprio Ti uccidono E ti Dilaniano Io L'ho fatte Tutte Ecco Quindi Praticamente Questa è stata La mia esperienza Quindi Se vi dicono Guarda che sei Sei pratica Perché Oppure vi dicono Eh ma sarà veloce Eh ma non ti preoccupate Sarà una passeggiata No No Cioè Almeno Io No Io No Io È stato Il parto Più doloroso Più doloroso Che ho potuto Fare Ed è stato Un parto Che io Non voglio Più Rifare L'ho proprio Detto All'ostatrice Appena è nato Io l'ho detto Ho detto Basta Cioè Io Non pensavo Che era così Io ho detto Basta Non lo faccio più Non lo voglio più Fanartro E Questo è Insomma Anche perché È vero Che insomma A me piace La famiglia numerosa Però è anche vero Che una famiglia numerosa Va mantenuta E insomma Ci vuole L'organizzazione E ci vuole Soprattutto L'età Io C'ho 37 anni È vero che non so Tanto tanto grande Non ce n'ho 40 Però insomma Ci stiamo arrivà E il corpo Non è quello Da 25 anni E quindi Basta Abbiamo detto Stop Tre ci bastano Poi Quello che vuole Il signore Si prende Logicamente Però sappiamo tutti Come si fanno i figli Quindi Non ci prendiamo In giro Siamo tutti adulti E E niente Questa è stata La mia esperienza Ora Non vi dico Che la mia esperienza È Bibbia Però insomma Io ho avuto questa Quindi Prendetela Come tutte quelle altre esperienze Che ci sono state E niente Detto ciò Vado a vedere A che punto è la situazione Se ancora dorme Eccetera E ci vediamo al prossimo video Ciao